Intro Bentornato Goodyear, bentornata Andiamo a terminare la descrizione sul backup Quanti tipi di backup esistono ad oggi? Beh, ne esistono diverse metodologie Tale opportunità può essere fornita o meno in base al programma che sceglierai Esistono backup completi ossia è possibile eseguire un backup completo un adantum di tutti i file o del disco o delle partizioni di un disco rigido Esiste il backup differenziale nel quale vengono confrontati i dati da archiviare quindi il nuovo backup con quelli presenti nel primo backup che è anch'esso completo e verranno registrati nel nuovo backup nel nuovo aggiornamento tutti e solo i file cambiati rispetto al primo backup completo Infine il backup incrementale il quale confronta i dati da archiviare sempre con quelli presenti ma nell'ultimo backup incrementale registrando nel nuovo backup soltanto i file cambiati rispetto a quest'ultimo Anche nel caso del backup incrementale comunque è presente un primo backup completo Quello completo può rappresentarsi o con un insieme di file oppure dell'intero disco o delle partizioni di un disco rigido nei quali sono compresi anche la tabella delle allocazioni e i settori di boot i settori di avvio Questo tipo di backup può essere utile per ripristinare un intero sistema operativo in pochi minuti nel caso in cui accada qualche cosa o qualche malfunzionamento oppure una contaminazione da malware oppure ad esempio per poter installare una stessa configurazione di sistema operativo più programmi su diversi computer ma con medesime caratteristiche quindi per poter creare in un'azienda o in un ufficio un gruppo di computer con le medesime caratteristiche hardware e software Nel caso in cui tu debba ripetere questa procedura a distanza di tempo a meno di esigenze particolari ti sarà conveniente rimuovere il precedente backup in quanto lo spazio che andrai ad occupare sarà un bel po' grande e molti dei dati saranno ridondanti tra i due backup nella tabella 1 di seguito che andrò a spiegarti potrai vedere un'ipotetica operazione di backup completo supponiamo di partire con un numero di file da archiviare eseguendo un primo backup completo all'interno di questo backup avrai tutti i file del backup in questo caso specifico avrai 5 file successivamente in base ad una variazione di alcuni di essi potrai eseguire un nuovo backup all'interno del quale ci saranno i file che verosimilmente non sono stati cambiati e i file invece che sono aggiornati successivamente ad esempio effettuerai un ulteriore backup completo se avrai ulteriormente variato alcuni di questi file e nel caso in cui per qualsiasi ragione tu dovessi ripristinare questi file otterrai l'ultimo backup completo come punto di ripristino per riacquisire i dati qualora fossero andati persi puoi verificare che l'ultimo backup sostanzialmente completo sarà quello che utilizzerai per eseguire un ripristino nulla di vieta se non cancelli i precedenti backup di poter ripristinare questi file ad un intervallo temporale anche precedente all'ultimo backup completo ti sottolineo che qualsiasi backup completo andrai a realizzare avrai comunque sempre al suo interno tutti i file questo renderà ogni singolo backup particolarmente corposo per gli altri due tipi di backup il differenziale e l'incrementale è necessario eseguire una premessa in entrambi i casi si partirà da un backup completo identico a quello appena descritto quindi all'inizio non c'è alcuna differenza tra i tre tipi di backup ma successivamente al primo backup inizieranno a comparire le differenze dal secondo backup infatti otterrai degli aggiornamenti al primo backup e quindi nasceranno le differenze tra il backup differenziale e il backup incrementale il differenziale confronta i file modificati aggiunti o rimossi rispetto al primo backup completo e quindi archiverà nel nuovo backup sempre e solo quelli che sono stati modificati rispetto al primo backup completo quello sarà il riferimento padre sostanzialmente ogni successivo backup differenziale andrà ad aggiornare e inserire eventualmente i file modificati sempre e solo rispetto al primo backup completo nella bella 2 adesso ti riporto un'ipotetica operazione di backup differenziale per chiarire meglio l'operazione partiamo sempre da una prima colonna all'interno del quale sono contenuti i file da archiviare ed eseguiamo il primo backup completo in questo caso come nel precedente abbiamo 5 file eseguendo una variazione ad alcuni di essi avvieremo il backup differenziale come puoi vedere nel backup differenziale non compariranno tutti i file ma solo ed esclusivamente quelli modificati rispetto al precedente backup andiamo ad alterare altri dati ed eseguiamo un nuovo backup differenziale in questo caso nella colonna 4 otterrai la presenza del file A1 in quanto è sempre modificato rispetto al primo backup completo otterrai anche la presenza del file B2 che sarà una variazione rispetto al backup differenziale numero 1 quindi al file di riferimento nato con la lettera B e in più comparirà un nuovo file che è la modifica C1 del file originale C se dovessi a questo punto ripristinare un backup con tutti i dati ottenuti dovrai accedere naturalmente al primo backup completo e successivamente al secondo backup differenziale o comunque l'ultimo backup differenziale per realizzare la configurazione finale sulla quale stavi ultimamente lavorando per capirci da notare che nei backup differenziali in questo caso nelle colonne 3 e 4 saranno sempre presenti e solo essi i file modificati rispetto al primo backup completo quindi non compariranno i file non modificati ecco perché si chiama differenziale naturalmente con il passare del tempo i successivi backup differenziali incrementeranno le loro dimensioni in quanto verranno trascinati sempre i file modificati rispetto al primo backup completo infine il backup incrementale parte da un backup uguale ai precedenti quindi un backup completo ma aggiunge al nuovo backup solo i file modificati rispetto all'ultimo backup incrementale eseguito quindi non più rispetto al primo backup completo il numero di file naturalmente presenti all'interno del backup differenziale saranno tanto più grandi quanto maggiori saranno i successivi backup incrementali eseguiti la particolarità è che se uno dei file di backup incrementali dovesse corrompersi o essere perso ti sarà impossibile ripristinare i file sui quali stavi lavorando in quanto ogni backup è strettamente legato e dipendente al precedente vediamo su una tabella come chiarir meglio il concetto di backup incrementale partiamo sempre con i soliti file da archiviare eseguiremo un backup completo con 5 file successivamente eseguirai una variazione del file A e B e nel successivo o meglio nel primo backup incrementale compariranno solo questi due file perché variati soltanto questi due rispetto al backup precedente successivamente eseguirai un'ulteriore modifica ma al file B e al file C quindi nel secondo backup incrementale terzo cronologicamente parlando terzo backup compariranno solo ed esclusivamente questi due file che sono gli unici file modificati rispetto al backup incrementale precedente qualora a questo punto tu volessi ripristinare i file dovrai fare uso di tutti i backup incrementali in quanto la configurazione finale che dovrai utilizzare sarà presa dai singoli backup come puoi vedere il file A1 è presente nel primo backup incrementale il file B2 e il file C1 sono presenti nel secondo e in questo caso ultimo backup incrementale mentre i file D ed E mai modificati sono presenti addirittura nel primo backup completo puoi capire facilmente che una perdita o corruzione di uno di questi backup ti compromette il ripristino degli stessi è bene sottolineare il fatto che nei vari backup incrementali in questo caso nelle colonne 3 e 4 saranno sempre solo presenti i file che saranno stati variati rispetto al precedente backup incrementale in questo caso rendendo così meno corposo i backup singoli rispetto ai precedenti visti il tempo necessario alla creazione dei vari backup tra tutte le possibili soluzioni naturalmente è minore per il backup incrementale in quanto lavora sul numero inferiore di file rispetto al backup completo o al backup differenziale al contrario il tempo necessario per ripristinare il file di backup o il sistema operativo tra i vari tipi di backup in linea teorica gioca a favore del backup completo in quanto esso lavora su un unico gruppo di file fino a se stesso al contrario del ripristino su un backup differenziale o incrementale che lavora su più di un file di backup tra gli ultimi due quindi tra un backup differenziale e incrementale il tempo di ripristino gioca a favore del backup differenziale in quanto sostanzialmente ricorrerà per il ripristino al primo backup completo e solo l'ultimo backup differenziale al contrario del backup incrementale non dovrà passare per tutti i successivi backup incrementali eseguiti le dimensioni di questo file di backup sono però maggiori in quanto ogni file di backup memorizza un numero sempre più grande di file al contrario del backup incrementale le dimensioni invece dei file incrementali saranno meno corpose ma la durata del suo ripristino sarà maggiore proprio perché dovrà ripercorrere uno ad uno tutti i backup incrementali queste linee guida sono da intendersi per via generale e non assoluta in quanto tutto dipende dalla filosofia di lavoro e gestione dei programmi scelti per eseguire un backup e ripristinare i file stessi a volte la semplicità del programma stesso aiuta notevolmente nella creazione del backup e nel ripristino dei file stessi senza particolari operazioni in quanto è possibile che tu possa ottenere già all'interno del file di backup i file così come sono quindi senza un'alterazione in altri casi invece il formato proprietario del file di backup che ha generato il programma introduce alcune imposizioni un obbligo di dover utilizzare per forza di cose lo stesso programma proprio perché il programma padre che genera il backup crea un file particolare che sarà gestibile solo facendo uso del programma che l'ha generato per completare il discorso sui backup ti rimando alla rubrica the goodly answer nello specifico alla domanda risposta numero 12 dove si parla appunto di backup per rendere più completa l'acquisizione proprio dei backup ti rimando alla lettura di questo articolo scritto da Lorenzo Vian che può certamente tornarti utile in quanto descrive come mettere al sicuro i nostri dati quindi tutto sommato eseguire un backup degli stessi ti rimando alla prossima lezione per altre informazioni didattiche ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima a presto